Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi sabato 18 giugno si venera tra gli altri San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo. San Gregorio è stato un cardinale e vescovo cattolico, nacque in una ricca e influente famiglia veneziana, si dedicò personalmente ad organizzare le lezioni di catechismo e a invitare tutti alla celebrazione della messa. Visitò le 320 parrocchie della diocesi di Padova, includendo le più lontane edifici da raggiungere, organizzò i parroci e formò i catechisti. Fece aumentare il numero delle stamperie di libri religiosi e si interessò in modo particolare affinché i futuri sacerdoti fossero ben formati. Il suo seminario arrivò a essere considerato uno dei migliori d'Europa. In qualità di cancelliere dello studio di Padova, rifiutò nel 1678 di concedere la laurea in teologia a una donna, affermando che sarebbe stato uno sproposito dottorar una donna e avrebbe significato renderci ridicoli a tutto il mondo. Da Papa Innocenzo XI fu trattenuto a Roma per tre anni e mezzo come suo consigliere e gli affidò la supervisione dell'insegnamento cattolico nella città. Lavorò per la riunificazione con le chiese orientali. Morì il 17 giugno 1697 e fu sepolto ed esposto nella cattedrale di Padova. Ed ora apriamo la nostra segna stampa con i quotidiani nazionali. Iniziamo dalla Repubblica che apre con Londra la pista dei neo nazi, visco un piano per Brexit. Intervista al governatore, pronti a intervenire ma l'Italia non rischia di più. E poi il voto nelle città. D'alta attenzione, raggi in mentì, non dichiarò in carico ricevuto da una ASL. Il PD, candidata del Movimento 5 Stelle di Roma, va indagata. Chiusura senza leader, domani ballottaggio. In centropagina la fotonotizia europea, battuta la Svezia di Ibra, già agli ottavi. Nazionale di ferro, la corsa continua. Conte, mettete una maglia azzurra. Passiamo al Corriere della Sera che apre con l'intervista. Putin, ho apprezzato le parole di Trump e Hillary Clinton, cambierà se sarà eletta. Così il presidente russo. In centropagina, sangue sulla Brexit, simboli dell'estrema destra nell'abitazione dell'uomo accusato dell'omicidio. Per quanto riguarda il delitto Cox, pista neonazista, la deputata pro Unione Europea era stata minacciata ma non aveva protezione. Borse su. E poi la fotonotizia europea, un gol negli ultimi minuti. Sì, sconfitta la Svezia di Ibra, Eder, fa volare l'Italia, siamo già agli ottavi. Nel taglio basso, condannati in libertà, a Napoli 12.000 casi, le sentenze non vengono eseguite perché manca il personale. Ispezione di Orlando. E poi la strana estate all'interno, perché piove così tanto? Andiamo avanti. Il fatto quotidiano a Roma, Raggi, quell'omissione può finire in procura. L'incarico all'ASL di Civitavecchia è la legge Severino. Torino, Roberta e la sua tesi, complice dei Notav, una laureanda in antropologia, condannata a due mesi. E poi le mail imbarazzanti. GDF, il generale Toschi, tiene famiglia. Ora ci pensa il mio fratellone, inviate da Andrea, imputato per associazione a delinquere. Nel taglio basso, l'appello, stipendi etici come all'Olivetti, la disuguaglianza comincia. Dalla bussa paga e poi la notizia sportiva. 1-0 con la Svezia, l'Italia annoia, poi trova il gol dell'Anatroccolo. Il tempo in alto, vediamo, dopo brogli e liti, ora il silenzio. Domani si vota, parte il blackout elettorale, ecco tutti i ballottaggi municipio per municipio. E poi l'inchiesta, quanto sei brutta Roma, nella capitale crollo di turisti. 700 mila in meno, a Milano sono 3 milioni in più. Un settore abbandonato tra false guide, alberghi semivuoti, bed and breakfast, abusivi e borseggiatori. Questa piccola grande Italia, in centro pagina, la fotonotizia. L'Europeo, gli azzurri battono la Svezia 1-0, decide il gol di Eder all'ultimo minuto. In breve parla Lele Mora, ma quale cerchio sul cab? Decidono tutto due donne. E un video riapre il giallo del suicidio di Rossi, il dirigente di MPS morto nel 2013. Il capo della polizia dice no a fusione arma forestale, Gabrielli boccia il governo. E poi nel taglio basso tecnologia, il super pollice da telefonino, l'utilizzo degli smartphone sta facendo crescere le nostre dita. Il manifesto balla con Putin, Renzi scappa dai valottaggi dei candidati del PD nell'ultimo giorno della campagna elettorale. Il premier vola in Russia e annuncia un miliardo di contratti per l'Italia. E poi Joe Cox, il lutto è nazionale, il killer simpatizzante neo-nazi. Gran Bretagna sotto shock per l'omicidio della deputata anti-Brexit. Libero, libero che apre con lo sport, un calcio a chi viaggia. Sciopero in massa, l'Italia non vola per vedere la partita. Gli azzurri vincono contro la Svezia e si qualificano per gli ottavi. I rischi di Renzi vediamo per quanto riguarda il redazionale. Domani ballottaggi, chi non vota che peste lo colga. Ed ancora vediamo che imbroglio le macchinette del caffè, un cartello per tenere alti prezzi, arriva alla multa dell'antitrust. Lo Stato umilia ancora Tortora, Grasso vieta di presentare il libro in Senato. Follie buoniste dell'Europa ci chiede di integrare pure i terroristi dell'Isis. E poi da Banca Italia a Monte dei Paschi, il tema di banche, il colpevole, non si trova mai. Passiamo al mattino, un lampo di Eder, l'Italia agli ottavi. La nazionale batte la Svezia di Ibrahimovic, 1 a 0. E cronaca, vediamo in centropagina, bimba muore, pediatra arrestato, a Casal di Principe, un diagnosticato, scusate, un tumore, sei mesi di cure sbagliate. Dirò a mia figlia che papà mi ha bruciato, sto soffrendo tanto, non lo perdonerò mai. Queste le dichiarazioni alla donna, appunto, che fu ussionata dall'ex. Cox era minacciata il killer vicino ai nazi e poi ancora a Napoli. Giustizia flop, arrivano gli ispettori. Avvenire, avvenire e apre con il fatto, fuori campo, i 600 mila di Dabab presto espulsi, il Papa salva altri nove profughi. E poi ancora vediamo il voto, Londra finisce sotto shock e la Brexit torna in bilico. Passiamo all'unità finale di partita, i ballottaggi si decidono all'ultimo voto, non lasciamo le città a incapaci e fascio leghisti, bugie a 5 stelle, altra amnesia di raggi che nasconde consulenze ASL, ma è elegibile? Questo l'interrogativo. E poi il GB sotto shock, Camerun e Corbin uniti nel nome di Joe Cox. Renzi inizia a scongelare le relazioni fra Unione Europea in Russia. L'incontro svoltosi nella giornata di ieri, riportato nella foto. Passiamo ora al messaggero, vediamo come apre oggi. Vediamo l'apertura e poi le notizie interne al messaggero, le prime notizie dal mondo e nazionali. In apertura, quindi vediamo Londra, minacce e niente scorta, Brexit, protezione negata alla deputata uccisa, l'assassino aveva simpatie neonaziste. Camerun e Corbin, come abbiamo visto prima, basta odio, borse più ottimiste sull'ipotesi dello strappo Milano, più 3,4%. E poi Euro 2016, gli azzurri che vincono 1-0, gol all'ottantottesimo. Magia di Eder, trascina l'Italia, Svezia battuta ora gli ottavi. E a Roma raggi, consulenze non dichiarate, rischi a sanzioni e indagini. Anac, polemica sugli incarichi, ASL di Civitavecchia, da consigliera lei e Fango ha detto. Il decreto statali verso licenziamenti più facili per assenze di massa e malati seriali. E poi il forum di San Pietroburgo, Renzi, mi batterò per allentare le sanzioni. E Putin, l'Italia, sia fiera di un premier. Nel taglio basso, Montipaschi, l'inchiesta sul manager suicida, caso Rossi, il giallo del video, sono stati tagliati 38 minuti. All'interno, in primo piano, quindi, le indagini per la deputata uccisa, minacciata da mesi, denunciò tutto il giallo della scorta. Le nuove misure di protezione per la 42enne, frenate da ritardi burocratici. E le lettere di ingiurie per molte settimane, ma a mandarle non era stato il suo assassino. E poi il caso, il sindaco di Londra, clima di odio, vittima dei veleni del referendum. Ancora, vediamo il retroscena, un santuario di cimeli nazisti nella casa del killer di Lidz. Appunto, estremismo o malattia mentale, sono le due piste, ma la prima è prioritaria. Thomas Mayer si era indottrinato con i libri del 1940 e un manuale delle SS. La vittima, le ultime parole di Gio, mi fa troppo male, aveva detto appunto la giovane. Ancora, vediamo l'attesa. I mercati ora ci credono. Londra più salda nell'Unione Europea. Borse pronte a scommettere che l'omicidio della deputata laborista convincerà gli inglesi dalla BCF del Boeing, piano antiscossoni sulle valute a Milano, rimbalzo del 3,49%. E l'intervista, vediamo, a Fitussi, con la Brexit corre più rischi. La Gran Bretagna dell'Europa ha detto. Sempre in primo piano vediamo il forum di San Pietroburgo. Renzi, rivedere le sanzioni e Putin fa l'elogio del Premier. Al Consiglio Web imbatterò per ridiscutere le misure che Bruxelles ha imposto a Mosca. E i leader russo, l'Italia sia fiera di un Premier così e l'Europa sia attenta alla guerra fredda. Ancora vediamo il caso. Raggi, consulenze non dichiarate alla ASL, Civita Vecchia, la replica solo fango. Il PD insorge, ha mentito e reato. Zingaretti dispone un'ispezione sabella, gli incarichi notificati soltanto dopo l'inizio dei controlli. E la polemica in breve no alla Sala del Senato per il libro su Tortora. Ancora De Magistris, dopo le elezioni farò un movimento, ha detto. E per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, la candidata svela quattro nomi della Giunta. Il direttorio fa quadrato, complotto, dem in rete i dubbi della base, ma i vertici preferiscono che a parlare sia un legale. E vediamo il retroscena rischia un'inchiesta per falso e l'esame dell'anticorruzione sugli incarichi ricevuti dalla grillina, oltre la procura pronta a muoversi anche l'ANAC. Il contratto del 2012, dichiarato solo tre anni dopo, quello 2014, è rimasto invece segreto. Se venisse eletta in quanto sindaco, si troverebbe a dover sanzionare se stessa per le false attestazioni. Ed ancora vediamo cinque punti chiave per decidere sulla capitale. Raggi punta sulla carta novità e su temi trasversali. Giacchetti scommette sulla squadra e l'esperienza, tutte in grafica riportate, poi le proposte per cambiare volto alla capitale, trasparenza, quanto contano le storie personali, la squadra tra annunci, rinvii e carte coperte, la comunicazione, le diverse strategie di leadership tra novità e nuovismo, tecniche di cambiamento. E poi l'intervista a Zanda nel PD, chi rema contro lo fa sottotraccia, dietro Roberto, l'eredità dei grandi sindaci, ha detto. Ancora vediamo il focus Roma a traguardo giochi per abbattere le barriere. Con le Olimpiadi, l'adeguamento di ogni infrastruttura, con l'accessibilità per i disabili, gli interventi dagli ingressi alle strutture sportive fino alle piattaforme mobili sui bus. I precedenti, vediamo Fassino, per Torino è stata una svolta e poi in basso l'intervista a Emiliano. Possibile un evento senza sprechi, così la capitale può uscire dalla crisi. Il governatore della Puglia, con il Politecnico di Bari, abbiamo contribuito studiando un modello sostenibile. Ed ancora vediamo la svolta statale, assenze di massa, licenziamenti più facili per allontanare il lavoratore. Non sarà più necessario attendere la condanna penale, stretta in arrivo anche per i malati seriali che disertano il lavoro ogni lunedì o nei ponti. E il caso, vediamo, gioca l'Italia, Palermo 40 autisti malati, l'azienda dei bus si rivolge alla Procura e nel traffico aereo, disagi per lo sciopero dei controllori dalle 13 alle 17 e a Fiumicino cancellati 78 voli. Andiamo ancora avanti nelle cronache. Il caso scandalo sentenze, 50 mila non eseguite, gli ispettori a Napoli condannati, impuniti e assolti che restano colpevoli. L'allarme di Legnini, Orlando dispone gli accertamenti sotto accusa alla carenza di organico. Gli archivi della Procura sono in Umbria. E vediamo ancora processo Bossetti, niente tv in aula il giorno della sentenza. La tragedia, non diagnosticarono tumore a bimba, pediatra e la moglie arrestati a caserta. La piccola di tre anni è morta, la donna si spacciava per medico. In breve ancora vediamo i piccoli falchi salvati dai professori al liceo Virgilio di Roma. E tra le cronache ancora il mistero, caro Ros, caso Rossi, il giallo del video manipolato. MPS, il mistero del manager suicida, diffuso dal New York Post, un film auto-shock sulla sua morte. Ma sono stati tagliati 38 minuti, i due uomini attorno al corpo, colleghi della vittima avvisati dalla moglie, erano già stati interrogati. Uno riascoltato ieri. E in breve incubo a Novara, bastonate ai compagni nei guai, i bulli ripetenti. L'emergenza, vediamo Palermo, stretta antri antipiromani di Alfano Gabrielli, sbagliato, accorpare la forestale. Il ministro dell'interno in Sicilia, in arrivo nuove tecnologie, il capo della polizia critica il decreto che ha appunto coinvolto il corpo. E la tragedia assalita dai cani del figlio, anziana, more a Milano. Sempre tra le cronache, vediamo la missione, salvataggio al polo sud, una sfida all'impossibile, due bimotori nelle condizioni più estreme per prelevare un malato grave. L'SOS è arrivato da una base antartica, mai nessun soccorso è stato così difficile. Vediamo ancora il caso, Russia, il robot scappa dal laboratorio, lo recuperano in mezzo alla strada, ha bloccato il traffico, la fuga si è conclusa per la fine delle batterie. E poi la scoperta, vediamo, ritrovata all'auto della Dolce Vita. Pagina dedicata all'economia, vediamo in apertura il vertice, banca e niente tetto ai titoli di Stato. Ecco fin l'Italia ha sventato il tentativo della Germania di mettere un limite ai bond sovrani posseduti dagli istituti. Stallo sull'unione bancaria, intanto prende corpo il paracadute pubblico per i crack del credito Padoan, bicchiere mezzo pieno. E poi la replica, Poletti precisa, sulle pensioni Bruxelles, non critica noi. Con la prima pagina dedicata appunto all'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali aggiornamenti per questo weekend? Allora non ci sono buone notizie per quel che riguarda la tendenza soprattutto per la giornata di domenica. Se da un lato nelle prossime ore sulla nostra regione non ci saranno particolari problemi, tranne che ovviamente la presenza di una copertura nuvolosa in graduale attenuazione nelle prossime ore, le temperature sono previste in diminuzione, diminuzione a partire dal settore occidentale perché pian piano arrivano masse d'aria fresca provenienti dalla Francia che a partire da stasera favoriranno, stasera stanotte favoriranno un nuovo aumento della nuvolosità e un peggioramento soprattutto nella giornata di domenica. Ed è proprio domenica che nella giornata di domani a partire proprio già dalla mattinata avremo addensamenti consistenti a partire dalle zone montuose e sul settore occidentale con rovesci e manifestazioni temporalesche localmente di forte intensità in estensione verso il settore orientale, soprattutto nella seconda parte della giornata e dove proprio nel pomeriggio sera potrebbero verificarsi fenomeni anche di una certa consistenza accompagnati da raffiche di vento e persino da occasionali grandinati. Quindi attenzione a questa possibilità, una situazione che continuerà a riproporsi anche nella giornata di lunedì perché la nostra penisola continuerà ad essere interessata da questa goccia di aria fredda in quota e l'aria fredda in quota manterrà attive condizioni di instabilità con rovesci e manifestazioni temporalesche, in particolar modo durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Poi pian piano a partire da martedì la situazione inizierà lentamente al migliorare il peggioramento invece si sposterà verso le estreme regioni meridionali tuttavia almeno fino a giovedì-venerdì la nostra regione potrebbe essere ancora interessata da addensamenti che stavolta però saranno più probabili sul settore occidentale della nostra regione. Quindi insomma un fine settimana e un inizio di settimana l'insegna dell'instabilità. Lisa è con temperature in generale diminuzione. Bene, grazie Giovanni, non ci hai dato buone notizie però ti ringraziamo lo stesso. Ti auguro una buona giornata. Grazie Lisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande e quindi essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Tra poco. Seconda parte di mattino 6 passiamo alle notizie regionali dal quotidiano dell'Abruzzo. Vediamo le prime quattro pagine. Iniziamo con quella dedicata alla provincia di Pescara in apertura più risse e donne picchiate in casa. Pescara sono cresciuti in modo esponenziale gli interventi chirurgici di ricostruzione maxilofacciale del dipartimento ospedaliero diretto da Ascani. I dati 2015 indicano un aumento dei casi di violenza. E poi il calciomercato in centro pagina, il bomber Lapadula e Caprari, sempre più vicini a Napoli. Nelle cronache spiagge controllate da vigili e capitaneria via l'operazione Estate Sicura. In città Sant'Angelo multe con il rosso nuove vie con le foto. In Pescara ceduti 50 parcheggi per i clienti degli hotel assegnate due aree pubbliche. Vediamo ora la prima pagina. Dedicata alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto, in apertura con la cronaca Muore schiacciato sotto il trattore Frisa, un altro incidente agricolo nelle campagne del Frentano. La vittima è un agricoltore di 86 anni. Stava falciando l'erba quando il mezzo si è ribaltato e capovolto sulla strada comunale. E poi in centro pagina vediamo a San Salvo minacciati due commercianti arrestato con macete e pistola per il colpo al negozio. Nelle cronache vediamo in Lanciano pugni in testa e al volto al leader di Casa Pound. Nella foto e in Vasto sfida menna desiati con gli ultimi appelli. Vasto sceglie il sindaco. In Chieti paura al tricale. Lama alla gola e calci. Negoziante rapinata. Passiamo ora alla prima pagina dedicata invece alla provincia di Teramo. Vediamo in apertura un altro litigio. Finisce a coltellate a Giulianova tre giorni dopo l'omicidio violento. Diverbio tra due vicini di casa per la musica troppo alta. Un 44enne ferito alla mano denunciato l'aggressore oggi intanto i funerali dell'uomo ucciso martedì in Viale Orsini. In centro pagina vediamo tanta gente nel primo giorno della rassegna. Si parla dei sapori dello street food. L'evento appunto in piazza Martiri a Teramo. E street food appunto i sapori dello street food conquistano i teramani. Così il titolo. Nelle cronache invece studentessa di 22 anni discute in casa e scappa minacciando il suicidio. In Val Vibrata danni e polemiche dopo la mareggiata. E ancora vediamo la corsa di autostoriche. Circuito del Castello. Strade chiuse in centro. Manifestazione ricordiamo prevista per la giornata odierna. Vediamo la prima pagina dedicata all'Aquila, Vezzano e Sulmona. In apertura PM Drangheta, sei anni, a Viasini. E l'Aquila infiltrazioni della criminalità organizzata nella ricostruzione. Il processo alle battute finali. La procura insiste nelle accuse. L'imprenditore era il cavallo di Troia per lo sbarco dei clan. In centro pagina muore a 63 anni. L'architetto Conti guida dell'ordine. Addio a un protagonista della ricostruzione. Nelle cronache in Sulmona. Domani ballottaggio tra Casini e Dimasci. Ultimi fuochi e Querel. In Avezzano, svelato piano vendita dell'ex ferrovia. In L'Aquila, case non ricostruite. Protesta contro l'Ater. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo. La città vediamo in apertura. Oggi, appunto, sabato 18 giugno. La città che apre con quanto successo a Giulianova. Il secondo accoltellamento senza senso. Lite tra vicini di casa per la musica troppo alta. Tra due tunisini finisce a colpi di lama. In centro pagina la mareggiata distruttiva. Gli chalet chiedono zero tasse. Colpa di Nettuno. E poi, sull'omicidio di Giulianova, scontro sulla ricostruzione del delitto tra procura e difesa. La procura, le coltellate sarebbero due. Chi ha visto parli adesso questo l'appello del procuratore guerriero. La difesa, invece, niente complice e inseguimento è stato un delitto d'impeto. E poi il personaggio, Olivier, il moderno viandante che gira l'Europa a piedi, passa per Teramo. Entriamo all'interno della città. Vediamo la pagina dedicata alla regione. Coccole e stangate sul piano sanitario regionale. I politici teramani si azzannano sulla riorganizzazione della sanità e la situazione politica del capoluogo. Il piano sanitario, vediamo il centrodestra, lamenta la penalizzazione della sanità teramana rispetto a quella delle altre province. Il bilancio teramano, Mariani del PD difende le scelte della regione e torna a criticare i problemi del centrodestra teramano. Andiamo ancora avanti, vediamo a Teramo le ricerche, come abbiamo visto in apertura, scomparsa nel nulla dopo una lite a casa, a prensione a Sardinara per una 22enne fuggita da casa con un coltello minacciando gesti estremi, mobilitate forze dell'ordine di soccorso, volontari e compaesani, la ragazza cercata tra le campagne, svuotato un laghetto. Vediamo appunto le foto, le ricerche delle unità cinofile, della polizia, lo spiegamento di forze dei soccorritori e nella foto appunto in alto, la prima foto, Giulia Costantini, 22 anni, di Teramo. Ricerche sospese, poi il lavoro delle forze dell'ordine è stato interrotto dal calare delle tenebre stamane. Giustamente riprenderà, saranno sicuramente riprese le ricerche della ragazza. Nel taglio basso, inciampa sul passacavi e si rompe il naso. Anziano ferito durante i lavori di allestimento dello Street Food Time. Ancora andiamo avanti. Il comune mette all'asta gli immobili, presentato il piano alienazioni con aree in Viale Bovio, alla Cona e locali in centro a Colleparco. Revocata l'agitazione, l'assemblea Atria accetta il piano di Sabatino. E poi l'iniziativa, l'antistadio Bonolis diventa pompieropoli per due giorni, dei vigili del fuoco dedicata appunto ai bambini. L'iniziativa riapre la piscina scoperta. L'ASI rivoluziona il servizio nell'area all'acqua viva. Aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 19, con possibilità di pranzare all'interno dell'area e di abbonarsi. E' sempre a Teramo, giudiziaria di fronte al giudice conferma le molestie subite dal padre, incidente probatorio per la minore. Andiamo ancora avanti. Vediamo sempre in Teramo, affideremo anche il vecchio comunale, il neoassessore Roberto Canzio. Nella foto presenta le sue idee su impianti sportivi, commercio e marketing territoriale per rilanciare Teramo Verde Pubblico, la vera emergenza con il caos di competenze tra comune, TEAM e ditte private incaricate del decespugliamento. Nel taglio basso vediamo commercio stretta in arrivo sulla movida molesta, musica ad alto volume e centro storico utilizzato come latrina e pattumiera. L'assessore sta studiando le sue regole. Vediamo ancora la mareggiata disastrosa sulla costa. I balneatori chiedono la sospensione delle tasse ai rappresentanti degli stabilimenti devastati dalle onde. Lanciano un appello ai comuni e alla regione. L'emergenza lungo tutta la costa Teramana sono state impegnate quattro squadre della protezione civile. La CNA balneatori, le condizioni meteo avverse, hanno modificato drasticamente le condizioni di utilizzo delle concessioni demaniali al punto di renderle totalmente improduttive. E lo vediamo nella fotonotizia. Il mare appunto divora la spiaggia ad Alba Adriatica. Il progetto vediamo spiagge più sicure grazie alla guardia costiera. La capitaneria presidierà il litorale con il personale e con le motovedette. Ed è stata presentata nella giornata di ieri l'operazione Mare Sicuro. Su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video di Paolo Renzetti. Il protocollo ha un senso nella misura in cui ognuno svolgerà quello che normalmente svolge. La firma di questo protocollo favorisce un'integrazione tra i diversi compiti in maniera tale che ci sia una presenza armonizzata sulla spiaggia, una presenza discreta che nelle finalità di chi sottoscriverà lei all'accordo è proprio quella di garantire un'estate sicura, tranquilla, con dei punti di riferimento ben precisi in grado di intervenire a 360 gradi, quindi sia sotto forma di soccorso sanitario sia sotto forma di soccorso tecnico in mare. È un'associazione di soggetti pubblici che hanno tra le proprie finalità quelle appunto di garantire a vario titolo le attività di soccorso. Noi tra l'altro questo protocollo si inserisce nell'ambito della più ampia operazione che noi svolgiamo tutti gli anni, nota con il nome di Mare Sicuro. Due giorni fa c'è stata la presentazione ufficiale di questa nostra campagna estiva alla presenza di tre ministri, che sono quei tre ministri nostri di riferimento, il ministro delle infrastrutture e trasporti, il ministro dell'ambiente, il ministro delle politiche agricole, proprio perché a livello periferico il corpo delle campioniere di Porto e Guardia Costiera svolge quella funzione di sportello unico in grado di garantire, nel caso specifico dell'estate, una sicurezza tutto tondo, quella dei bagnanti, quella dei consumatori di prodotti ittici che aumenta la richiesta durante l'estate e quella dell'ambiente per lo scopo di garantire per quanto è possibile un mare pulito, chiaramente, ma con riferimento alle attività di prevenzione e di repressione dell'inquinamento. Ancora dalla Quotidiano della provincia di Taramo, la città, vediamo Campli, giovanini evasore, deve dimettersi, il sindaco quaresimale in consiglio comunale accusa il predecessore di aver mentito prima di candidarsi. Agostinelli sono stupito dalla reazione del PD di Campli, che continua a difendere l'ex primo cittadino e ad attaccare l'amministrazione. Vediamo ancora nella foto Giovannini e il sindaco Pietro Quaresimale. La vicenda nasce dall'attività di accertamento tributario iniziata con l'arrivo di Pietro Quaresimale. E poi il caso Montefanum, quella dell'Unmil, è stata solo una vittoria di Pirro, lo ha detto il sindaco di Torricella nella foto Daniele Palumbi. Morrodoro, il maltempo non ferma i ragazzi dell'Atletica Vomano, grande partecipazione alla manifestazione, lo sport ti porta in vacanza. Ed ancora, vediamo Martinsicuro, balneazione, allarme quasi rientrato, le controanalisi permettono la rimozione di due divieti su tre. Purtroppo i dati della zona 250 metri a nord del Vibrata sono ancora oltre i limiti di legge. Sant'Omero, ultimi passi verso l'approvazione del piano regolatore. Il lutto, Sant'Egidio Piange, l'ex gloria dei giallorossi, Nadeno Santa Croce. E poi a Civitella, la Corte dei Conti Bacchetta, il bilancio di Civitella, appunto, il consigliere d'opposizione, Giuseppe Zunica, porta il caso in Consiglio Comunale. Vediamo, appunto, a Giulianova, la lite tra vicini, un altro accoltellamento, discussione per la musica troppo alta sfocia, in aggressione, 55enne tunisino in ospedale con un taglio alla mano. A contrastarsi, appunto, due tunisini che vivono in via Migliori, da tempo andava avanti tra i due una discussione condominiale. E la denuncia sul posto sono intervenuti vigili e carabinieri che hanno denunciato, appunto, l'aggressore. Giulianova, la Gorà, non paga gli stipendi, ma dichiara un utile di 350 mila euro. E sempre a Giulianova, finite le lezioni, iniziano i lavori alla scuola De Amicis. Al via i lavori da 547 mila euro finanziati dalla regione per il plesso scolastico giuliese. E proprio nella giornata di ieri, il primo cittadino di Giulianova, appunto sull'inizio dei lavori antisismici alla scuola, ha fatto questa dichiarazione che ascoltiamo. È un risultato, un obiettivo importantissimo, che si inserisce come un tassello in quel puzzle che abbiamo iniziato nel 2009, che ha come obiettivo di mettere in sicurezza tutti i plessi scolastici della città di Giulianova. Questi lavori, finanziati con 547 mila euro, grazie a dei finanziamenti intercettati con il lavoro di squadra di questa amministrazione, che fanno il paio con quelli, pure essi intercettati, attraverso un finanziamento regionale di oltre 800 mila euro per la messa in sicurezza del plesso della scuola media Bindi, dicevo, metteranno in sicurezza i locali dove i nostri ragazzi frequentano la scuola primaria. Un edificio che risale al 1914 che alla fine dei lavori che faremo di tutto affinché si completino prima della ripartenza delle lezioni dell'anno scolastico si andranno ad inserire in un impegno che dal 2009 al 2013 ha interessato scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie per un impegno di quasi 4 milioni di euro e che alla fine dell'anno 2017 arriveranno queste risorse impegnate a quasi 5 milioni. Ed ancora vediamo quindi lo scontro tra procura e difesa sulle coltellate per il procuratore guerriero sarebbero due, per l'avvocato Lettieri l'autopsia ne rivela solo una. I funerali, l'ultimo saluto a Paolo Cialini questo pomeriggio nella chiesa di San Pietro Apostolo a Giulianova e nella mattinata di ieri si è svolta appunto la conferenza stampa indetta dal procuratore capo della Repubblica di Teramo Antonio Guerriero presente anche i carabinieri appunto di Giulianova che stanno seguendo il caso e il PM, Irene Scordamaglia che hanno fatto un appello appunto ai cittadini. Lo ascoltiamo. Procuratore, lei oggi fa un appello ai cittadini di Giulianova, quindi secondo lei c'è omertà? Non ho detto che c'è omertà, io ho detto semplicemente che quando ci si indigna per un fatto occuento poi a questa indignazione bisognerebbe essere conseguenti e quindi a questa indignazione dovrebbe conseguire una collaborazione di cittadini per la dinamica dei fatti avvenuti in pieno centro, in un'ora centrale, alla presenza di balconi, finestre, barre e che si è prolungata per lungo tempo, alla presenza di una bambina che piangeva e che strillava, non è pensabile che nessuno abbia visto o sentito niente. Quindi l'appello alla collaborazione, a collaborazione, con il rispetto e la stima che ho verso la popolazione di Giulianova. Posso confermare che la bambina era nella macchina ed ha assistito purtroppo a questa vicenda terribile in cui il proprio padre veniva accoltellato al cuore da parte dell'arrestato. Che cosa abbia detto la bambina o non detto non ve lo posso dire. Io ho atteso oggi solamente perché solo oggi avevamo i risultati dell'esame medico-legale, solo oggi c'è stata la discovery perché stamattina c'è stata la convalida della decisione dell'arresto da parte del GIP e quindi tutti gli atti sono stati depositati, quindi vengono meno le esigenze di riservatezza. E inoltre dovevamo approfondire l'eventuale presenza o meno di altre persone su cui stiamo lavorando. Oltre alle dichiarazioni rilasciate da Di Silvestre, i fatti che in qualche maniera sono stati inizialmente ricostruiti che avrebbe appunto il Cialino prima aggredito il Di Silvestre? C'è attendibilità su questo? Noi abbiamo perplessità naturalmente sulla dinamica che c'è stata fornita dalla persona arrestata. E quindi è per questo motivo che naturalmente abbiamo richiesto la convalida dell'arresto. Proprio perché riteniamo che le dichiarazioni dell'arrestato non appaiono a nostro viso credibili. Finora gli unici motivi che sono emerse sono relativi a un contrasto per ragioni stradali. Altre situazioni, al di là di queste pseudo voci, noi non abbiamo riscontri concreti. E come sentito quindi le indagini, gli inquirenti non credono al caldaista, alla ricerca dei tessimoni, fatta porta a porta. E l'interrogatorio Lettieri, l'avvocato appunto di Dante Di Silvestre, è stato un omicidio di impeto, ha detto, e non c'è stato alcun complice sentito dal GIP. L'assassino resta in carcere. I legali di Di Silvestre, vicini al dolore della famiglia Cialini. Andiamo avanti. La stagione parte male. A Roseto due divieti di balneazione. Valori oltre la norma. Di fronte a Via L'Aquila e a Piazza Filippini scattano le ordinanze del Comune. la situazione è ricollegabile allo stato della rete fognaria che non riesce a smaltire correttamente le acque nere. L'evento poi al circolo nautico di Silvi. Il convegno sulla sicurezza è sempre a Silvi. Il Comune inizia la trattativa per acquistare Villa Pretaroli. La storica Villa Libert potrebbe diventare la nuova sede municipale. È un luogo dove organizzare le iniziative culturali. Ancora Roseto al ballottaggio. Vediamo piazze piene per i comizi di chiusura. Sabatino di Girolamo e Enio Pavone lanciano gli ultimi appelli in vista del ballottaggio di domani. Vediamo ancora avanti il progetto a Teramo. Storie galattiche online con Alidoro. Il racconto di Michele Toniolo. E poi Cultura. Alicia salvata dall'isola che non c'è. Chi di noi? Il romanzo di Mario Benedetti che racconta l'amore e il disamore. Ed ora torniamo al messaggero per vedere la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo che apre con Drangheta a condannare Biasini. L'Aquila alle infiltrazioni criminali. Appunto il PM antimafia. Sei anni e otto mesi per il costruttore. Era in difficoltà. Chiese aiuto e sapeva con chi aveva a che fare. Li chiamava zio e compare. E poi vediamo ancora sui rifiuti. Mazzocca ha presentato il nuovo piano ma senza inceneritore. E il verde ritrovato. A Pescara ci sono altri 145 alberi da abbattere. L'indagine del comune dopo il caso dei pini di Viale Regina Margherita. La storia. Ospiti internazionali al Parco della Maiella. Caterina è sola. Due orse dalla Svizzera. Pescara in breve rischia di annegare salvo per miracolo. Entriamo all'interno. Vediamo quindi Parco Maiella. Due amiche per l'orsa Caterina. Come abbiamo visto si chiamano Iris e Margherita. Sono plantigradi arrivate dalla Svizzera francese. Per tenere compagnia alla loro simile. Sono giovani e aiuteranno la sorella maggiore che ha ripreso la sua attività biologica dopo il periodo di adattamento. Il veterinario, anche loro, hanno una vita sociale, ha detto. E poi vediamo il convegno in comune a Pescara. Migniti e Savini parlano di sicurezza appunto nella cittadina. Prima pagina dedicata a Pescara. Il verde ritrovato. In lista altri 145 alberi da tagliare. Tanti gli esemplari considerati malati ovvero pericolosi. Dopo la verifica condotta in città dall'agronomo Rabottini. Il crollo in via Rigopiano fa rialzare l'attenzione sulla tutela del patrimonio arboreo. Monitoraggio continuo e costante. E dopo lo sgombero vediamo incognita sicurezza sul mercato etnico. Si allungano i tempi per il tunnel. Il tunnel, la priorità del comune. E adesso la legalità. E forza Italia boccia il progetto delle aree di risulta. Nel taglio basso lo strappo Pescara in testa. Nel centro-destra assenza più ambiguità. Guerino conferma l'addio a nuovo centro-destra. Presto i dettagli. Ricuciti i rapporti con Forza Italia per una nuova intesa. All'interno vediamo l'estate alle porte. Rischia di annegare contro gli scogli. Salvato dal 118. Un romeno in balia di onde alte. Corrente è ricoverato in gravi condizioni in chirurgia toracica. Il primo soccorso della stagione nel giorno del lancio di Mare Sicuro. La campagna della Guardia Costiera. Come abbiamo visto prima nel contributo video. Ed ancora la delibera con orari e tariffe. Parcheggi del mare. Confermati i mercati rionali. Montesilvano. Annunci abusivi. Multe a raffica. E a penne. Vediamo Brioni. La mano tesa dopo la dura vertenza. Il capo del personale Morelli. In arrivo investimenti sullo stabilimento e riduzione degli esuberi. Sulla vertenza Brioni. Ascoltiamo nel contributo video la posizione della CGL. Qualche giorno fa c'è stato un incontro a Roma per l'avertenza della Brioni. Quali sono le novità emerse? Sì, il 14 è stato un incontro al Ministero. Diciamo che abbiamo fatto un notevole passo in avanti. Anche se non è la soluzione definitiva del problema. Perché, come abbiamo sempre chiesto, l'azienda ci ha chiesto la proroga della mobilità solo su base volontaria. Con l'unica requisito non opposizione al licenziamento. Per la prima volta ha fatto la dichiarazione che almeno fino alla fine del di luglio non apre procedure di mobilità forzata. Quindi andremo alla riunione di verifica alla fine del mese di luglio. Noi continuiamo a chiedere quali sono le motivazioni per le quali l'azienda non vuole discutere di cassa integrazione. Non ci basta una risposta perché no. Noi siamo disponibili. Siamo assolutamente noi quelli che vogliamo che l'azienda continui l'attività. Ma chiediamo rispetto. Nel senso che la nostra posizione è chiara. È disponibile ma non è subalterna. Questa è la regola principale che nelle relazioni sindacali l'azienda deve capire. Sarà un'estate calda per i lavoratori della Brioni? Noi speriamo di no. Noi lavoriamo perché non lo sia. Noi lavoriamo perché il conflitto non ci sia. Perché questo è un mercato che non ha bisogno di conflitti. Il dottor Castano, rappresentante del Ministero, ha detto chiaramente all'azienda se c'è un problema, se si eleva il conflitto, c'è un problema che interviene anche sul mercato. Noi siamo per non favorirlo, per attenuarle, per quindi andare a un'estate tranquilla. L'azienda deve fare altrettanto. E questo è il discorso che facciamo. E dietro la vittoria ancora vediamo del Pescara che ha conquistato appunto la Serie A, la lezione di Oddo, campione di Fair Play. L'abbraccio allo sconfitto e l'attaccamento ai suoi ragazzi, tutte le qualità del giovane tecnico. Vediamo in breve roghi a catena, auto a fuoco nella notte, a Pescara Montesilvano Spoltore, la festa del rugby, poi tutti in campo ai gesuiti per il finale di stagione. Andiamo ancora avanti, pagina dedicata all'Aquila. L'accusa, sei anni per chi ha portato l'Andrangheta a processo alle infiltrazioni criminali nella requisitoria, ha ricostruito lo sbarco nel capoluogo della cosca Caridi, Tindato, Borghetto. Il PM della DDA, Picuti, Piasini, versava in gravi difficoltà, quindi era il perfetto cavallo di Troia per garantire affari. Il particolare, così le DRAIN spedivano appunto nei cantieri macchine e fondi per aiutare gli amici. Un pentito rivela, erano disponibili camion, escavatori e contanti, a noi facevano comodo mettere un piede là. E a Capestrano vediamo Gazebo per il bar, assoluzione per il vice sindaco proprietario ed ancora puntellamenti in 16 verso il giudizio. A metà settembre l'udienza preliminare, le mazzette per la PM, giunsero da un'agenzia di consulenza e da una matrimoniale. E poi il progetto pilota, restyling in tandem per Valle Pretara. Andiamo all'interno, vediamo quindi la polemica contro le insufficienti. serve una task force nelle vie della Movida, il comandante della Polizia Municipale. Ho pochi uomini, ha detto, cioni di confcommercio, servono più agenti e telecamere. E poi i migranti arrivano in 500, l'emergenza, saranno distribuiti sul territorio nell'intera provincia. Ballottaggio, vigilia con Chierel, Dimasci, denuncia alla rivale Anna Maria Casini per le allusioni al suo coinvolgimento nell'elaborazione del piano sanitario. Da febbraio non ho più avuto contatti con D'Alfonso e Paolucci, ha detto che c'entro io con i tagli che penalizzano la città. Andiamo avanti, pagina dedicata a Chieti, tre Molotov contro il Bus con la sciarpa del Pescara. Il Rogo, nella notte del deposito della tua, si segue la pista del tifo violento. Piromani in azione tra l'una e le quattro, in pianto guasto, nessuna immagine utile. E poi la violenza, la vigilia del ballottaggio, Nico Barone, coordinatore cittadino di Casa Pound, aggredito l'altra notte mentre rientrava nella sua casa. Pupillo condanna l'episodio, solidarietà alla vittima, dice, polemizza con la Paolucci sul clima elettorale avvelenato. Ed ancora pagina dedicata a Teramo, con le parco cambia volto, investimento da 1,2 milioni. Al vaglio l'idea di collegare il quartiere con il centro attraverso una teleferica. Ecco la nuova piazza, il parco urbano, con panchine, alberi, fontana e area gioco. E ricordo intanto che nella giornata di oggi appunto si svolgerà l'inaugurazione della nuova area, tanto criticata per l'ex gattile. Giulia Nova, la storia del killer non convince la procura. Abbiamo visto sull'omicidio Cialini il GIP convalida l'arresto di Di Silvestre che resta in carcere. Cialini ha ricevuto due coltellate, una l'ha raggiunto al cuore. Guerriero, il procuratore, ha detto impossibile che oltre la bimba non ci siano testimoni per la piccola. C'erano altre due persone sulla scena del delitto. Ma adesso passiamo a Abruzzo Sport, la pagina sportiva, calcio di serie A. Trotta vuole solo il Pescara, l'attaccante del Tassuolo resta il candidato principe alla sostituzione di Lapadula. La trattativa è ben avviata, il fratello procuratore conferma sa della stima di Oddo, vuole restare in A. e sarebbe una destinazione grandissima, ha detto, e c'è l'accordo per crescenze in attesa di Mandragora a centrocampo, si ripensa a Dezzi. Poi l'evento a Massimo Oddo, il premio Rocky Marciano, sarà premiato il 16 luglio a Ripa Teatina, insieme al ciclista Giulio Cicconi e al pugile Bundu. Ed ancora vediamo il mercato, dall'Uruguay in arrivo i Baby Neira e Rodriguez. Ancora dallo Sport, calcio di Lega Pro, Teramo, due colpi, ecco, Ilari e Croce. Le trattative sono quasi definite, è possibile anche l'arrivo di Margiotta, mentre i Biancorossi salutano Cenciarelli. È cambiata la sede del ritiro, la squadra di Zauli si allenerà sul campo di Ovindoli. Con la notizia di Calcio a Cinque, vediamo, chiudiamo, oggi l'acqua e sapone dall'Asti, ingaggiato l'Universale Romano. Con la pagina sportiva termina la nostra segna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6. Grazie per l'attenzione e buon weekend. Grazie per l'attenzione e buon weekend.